In casa Inter è già acqua passata, la sconfitta col Napoli in Coppa Italia ha considerato che tra due giorni ci sarà con la Lazio di Simone Inzaghi, che la Serie A non perde proprio dalla gara d'andata con i nerazzurri. Per la sfida scudetto dell'Olimpico il dubbio di Conte è soltanto uno, precisamente in difesa si giocano una maglia di teolare Godin e Bastoni, se dovesse giocare l'italiano ecco che Skriner verrebbe dirottato sul centro-destra della difesa a tre. Per il resto solo certezze, dall'Otaro in attacco alla rientro in campionato dopo due giornate di squalifica, a Young e Candreva sugli esterni, fino alla presenza di Vissino a scapito di Eriksen, destinato quindi nuovamente alla panchina.